Wewe, amici del web, vi devo dire una cosa molto importante Sentenza La sentenza definitiva Se hai, come immagine del profilo, su qualsiasi social network Sentenza, gli anime, un qualsiasi fottuto anime Da Dragon Ball a Jojo, come cazzo si chiamano Io non ascolterò Ma cioè, tu per me non avrai diritto di parola Mai, nel senso, puoi anche parlare Però, prendo in considerazione le tue idee e le tue parole Come se stessi parlando con Siri Anzi, Siri l'ascolto di più perché mi dà anche le mappe Il GPS, eccetera Ovviamente, niente di personale Dico solo che parla quanto cazzo vuoi Dimmi quello che vuoi tu Ma se c'hai l'immagine di Dragon Ball Bro, shh, per piacere, dai, per piacere Questo vale dai 14 ai infiniti anni Un bacio Buonanotte Dal mio canale YouTube Morente Grazie a tutti Grazie a tutti